Mi chiamo Tomo Komizu, vivo e lavoro in Italia da tantissimi anni. Sono progettista di questo settore da anni, fin da ero studentessa mi sono innamorata di design Scandinavia, però vivendo qui, visto che era grandissimo contrasto fra design Italia e Scandinavia, comunque la mia anima che è giapponese, allora mi piacerebbe collegare questi due paesi con la mia professionalità. Allora è nato questo progetto, visto che era Chair Seven, che hanno presentato una nuova versione molto naturale, vorrei proprio approfondire questa naturalità con la mia sensazione di natura. Uno dei lavori della tradizionale italiana è Doratura, perché il progetto principale è la foresta natura, quindi quando entro la foresta, che la luce illumina sia sul foglio o dell'erba o dell'albero, per cui vorremmo averne questa luce. Perché abbiamo scelto come elaborazione di intarsio? Perché questa nuova variazione della Seven Chair, che sono usati legno naturali, quindi spero che la possa risaltare questa naturalità con nubi fra naturale e industriale, quindi per risaltare di più questa naturalità vorremmo proprio utilizzare questa tecnica intarsio. Nella mostra voi potete trovare 8 variazioni del legno, nelle quali ho scelto 6 per intarsio, 6 per doratura, in totale 12 sedie che sono poste per la mostra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.